Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha tratto in arresto un 62enne di Napoli residente a Caserta, già conosciuto per precedenti episodi di contrabbando, ricettazione, truffa e reati economico-finanziari e sequestrato 440 kg di sigarette di contrabbando. L'operazione è stata condotta dai baschi verdi del gruppo Pronto Impiego che durante la costante attività di controllo economico del territorio hanno notato all'altezza dell'uscita di Torre Annunziata Nord dell'autostrada A3 un furgone avanzare ad alta velocità. Grazie al tempestivo intervento della pattuglia e alla conseguente ispezione del veicolo commerciale è stato scoperto nel vano, sistemato in diversi teri di plastica di colore nero, il carico di biondi di contrabbando del noto marchio Chesterfield. La provincia partenopea si conferma importante hub di transito delle sigarette verso altre città del nostro paese e zona di consumo particolarmente radicato. Nel corso del 2020 infatti il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha effettuato 937 interventi, sequestrato quasi 32 tonnellate di tabacchi, 38 mezzi di trasporto, denunciato 774 soggetti di cui 84 tratti in arresto. Numeri che denotano un trend stabile rispetto al 2019 e che inducono a ritenere che il mercato illegale dei prodotti da fumo, nonostante la pandemia, non abbia subito sostanziali contrazioni. Grazie.